Cari amici di G come Gabri, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo di una di quelle cose che si credono di sapere sul lavoro di animazione ma che in realtà tante volte hanno bisogno di essere spiegate e rivelate. Oggi vi parlerò di 10 regole che gli animatori devono seguire quando sono in villaggio e che probabilmente non conoscevi. Quando si entra in villaggio si pensa di avere trovato una libertà che non c'è da nessun'altra parte. Quanto meno non negli altri lavori. E in parte questo è vero, si ha comunque un certo margine di manovra quando si parla con le persone, quando si conoscono nuove realtà, quando si fanno cose che normalmente non si farebbero. Ma è pure vero che il lavoro di animazione negli ultimi anni è cambiato tantissimo e ritrova oggi una serie di regole molto stringenti che tante volte un animatore non si aspetta, specialmente se a prima stagione ovviamente. Ora fermo restando che molte di queste regole possono trovare una variazione a seconda dell'agenzia che le applica. In linea di massima possiamo dire che queste regole valgono un po' per tutte le situazioni in cui ci sono degli animatori a contatto con degli ospiti. Andiamo quindi a vedere 10 regole partendo dalla prima. La prima regola infatti, che molti probabilmente già conoscono, è quella del non tenere le mani in tasca. Ecco un animatore non deve mai tenere le mani in tasca. Ma perché? Questo fa parte della comunicazione paraverbale, ve ne ho già parlato in altri video e nel momento in cui una persona, in questo caso un animatore, tiene le mani in tasca, fondamentalmente trasmette tramite il proprio corpo, a prescindere da quello che dice, dalla sua espressione facciale o dal comportamento in generale che sta avendo, una forma di chiusura, di diffidenza. Ora è consigliato per tutti quei lavori che riguardano il contatto con il pubblico il fatto di tenere le mani in vista, specialmente in particolar modo i palmi delle mani. Quindi la regola numero uno per un animatore è non tenere mai le mani in tasca. Regola numero due, anche questa potrebbe essere molto intuitiva. La regola numero due infatti è non fumare in pubblico. Un animatore non dovrebbe mai fumare di fronte agli ospiti. A volte capita che ci sia qualche ospite che vi può offrire una sigaretta, magari dopo lo spettacolo, può capitare in qualunque momento della giornata. Ora, meno che meno si dovrebbe fumare durante il giorno, specialmente se sei in piscina o in spiaggia di fronte alle persone. La sera magari potrebbe capitare che un ospite vi offra una sigaretta bevendo un cocktail, magari seduti al tavolo. Ecco, in genere questa cosa non si dovrebbe fare. Un animatore non dovrebbe mai farsi vedere da un ospite che fuma, perché l'animatore dovrebbe sempre trasmettere agli ospiti questa immagine di persona che tiene la salute, educata, insomma dovrebbe sempre essere un esempio per le persone che lo guardano. In particolar modo se ci sono bambini che vi vedono fumare, non è bello, non sta bene. Quindi è sempre meglio evitare di fumare e anche svapare, o anche usare l'aicos, è la stessa cosa fondamentalmente, di fronte agli ospiti. Potete farlo magari in una zona più riservata, una zona di staff, ovviamente può ritagliare il lavoro, o comunque in un momento di pausa, davanti agli ospiti non si fuma. Ed ecco la numero 3. Vi siete mai chiesti perché gli animatori ogni volta che vi vedono passare in villaggio vi salutano sempre, perché questo fa parte delle regole dell'animazione. Un animatore deve sempre salutare tutti gli ospiti che incrocia durante la giornata, anche se incrocia la stessa persona più volte nell'arco di pochi minuti, certo non parliamo di un minuto, però se io incontro un ospite adesso e ovviamente lo saluto e gli do il buongiorno, buonasera quello che è, se lo rivedo dopo 20 minuti, mezz'ora, lo saluto di nuovo. È così. Tanto fino a quando non salutate in maniera aggressiva le persone, cioè a disturbare, questo non sarà mai visto come una cosa negativa, anzi sarà una cosa vista come magari un eccesso di cortesia, di gentilezza, e capiterà anche che vi chiederanno perché salutate sempre. Voi potete rispondere semplicemente perché siamo gentili. Regola numero 4. Questa è una regola che vale per tutti gli animatori di contatto, ma in generale per tutti gli animatori, dato che tutti gli animatori fondamentalmente sono animatori di contatto. Ossia non si può sostare per più di alcuni minuti con la stessa persona. Un buon animatore di contatto riesce a dedicarsi alla stessa maniera un po' a tutti gli ospiti, che sia il bambino, che la persona anziana, che la bella ragazza, che la signora. Dovrebbe dedicare sempre quei 2, 3, 5 minuti massimo per ogni persona, specialmente nei villaggi grandi. Quando si tratta di un villaggio con 500, 600, 1000, 2000 persone è chiaro che in un'equipa animazione di 15 animatori, di 20 animatori, anche di 40 animatori, se ogni animatore sta mezz'ora con la stessa persona a parlare, non riuscirà mai a coprire tutti gli ospiti del villaggio. Non ci riuscirà comunque, ma per raggiungere il miglior risultato, un animatore dovrà sempre distribuire i minuti che ha a disposizione di contatto per più ospiti possibili. Un animatore verrà sempre rimproverato dal proprio capo animazione se si soffermerà troppo tempo con la stessa persona a parlare. Regola numero 5, direttamente legata alla 4, non si può assolutamente sostare per più di qualche istante a parlare, a chiacchierare con un collega, che sia un animatore ma anche un altro membro dello staff, a maggior ragione. Se un animatore, un'animatrice, si ferma a parlare 10 minuti, mezz'ora, con un collega, oppure con un cameriere, con un barista, questo non va bene, perché si sta lavorando in quel momento. Siccome il contatto e il fatto di parlare con le persone fa parte integrante del lavoro dell'animatore, se dedicate questa forza lavoro a chi lavora insieme a voi, state sottraendo questi minuti preziosi di contatto agli ospiti che hanno pagato. Quindi un animatore non dovrà mai soffermarsi per più di qualche istante dove strettamente è necessario a parlare con i propri colleghi. Regola numero 6, questa me l'hanno chiesto spesso, un animatore può fare il bagno in piscina o al mare? Nì, nel senso no. Se vuoi fare il bagno in piscina o al mare, non puoi prendere e tuffarti così a farti il bagnetto per i fatti tuoi. Dovrai riuscire a trovare un escamotage, trasformarlo in lavoro effettivo. O ti fai il bagno in piscina, al mare, con gli ospiti, quindi insieme a loro, durante l'acqua gym, o con una scusa, uno scherzo, un passaggio, oppure non puoi farti il bagno per i fatti tuoi. Non sei in vacanza, stai lavorando. Regola numero 7, nonostante i tempi siano cambiati, questa regola vale sempre. Cioè, non puoi parlare al telefono davanti agli ospiti. È vietato, non si può, non si dovrebbe. Sta brutto pure da vedere l'animatore che, mentre fa contatto con gli ospiti, suona il telefono. Ah, mi scusi, non sta bello. Se dovete usare il telefono, appartatevi sempre. Dovete stare rinchiusi da qualche parte, un angolino senza farvi vedere. Siate sempre reperibili per il vostro capo animazione, o comunque per i responsabili, perché se vi cercano non vi trovano, si incazzano pure. Ma, badate bene a come usate lo smartphone. Dovete mandare un messaggio Whatsapp a un collega, a capo animazione, vi appartate un attimo e lo fate. Davanti agli ospiti non si fa mai. Regola numero 8, questo fa parte sempre della comunicazione paraverbale. Avete capito che è importantissimo gli animatori. Non appoggiatevi mai al muro. Un animatore non sta mai appoggiato al muro con le braccia concerte, appoggiato così, appoggiato così. Queste sono immagini degli animatori degli anni 80, probabilmente. Poi gli occhiare la sola, la sigaretta, le maniche arrotolate. Una serie di cose terribili oggigiorno nell'animazione. Quindi, non dovete mai stare appoggiati in maniera stanca, svogliata, perché è questo il messaggio che mandate alle persone che vi guardano. E vi guardano, gli ospiti vi guardano in ogni secondo. Quando vi vedranno appoggiato a un muro, penseranno, sei stanco? Magari ve lo vengono pure a chiedere. È una cosa che dà un enorme fastidio. Regola numero 9, non si può bivaccare. Bivaccare? Lo diceva mio nonno, forse. Non si può mangiare e bere di fronte agli ospiti. Ovviamente, al ristorante sì, questo è chiaro. Ma se volete un gelato, possibilmente nessuno vi nega di comprarvelo al bar. Ma vale la stessa regola del telefono, per esempio. Cioè il fatto di prendere il gelato, il panino, quello che se proprio avete fame non ce la fate più, vi dovete nascondere, dovete mettermi in disparto e non farvi vedere. Sta bruttissimo l'animatoria che gira con la Coca Cola in mano a bordo piscina, o col panino mentre fa contatto con gli ospiti in spiaggia. Sta bruttissimo. Quindi capite bene che anche questa è una regola importante. Non si mangia né beve di fronte agli ospiti. Regola numero 10, ufficialmente, con gli ospiti, le ospiti, quello che è, non ci si può andare. Non si può, non si potrebbe, non si dovrebbe. Ora, fermo restando che molti animatori lo fanno, e questo ho scoperto all'acqua calda. Ma sappiate che come regola, ufficialmente, nessun animatore può intrattenere nessun tipo di relazione, di rapporto intimo con un ospite. Quindi, come dire, vale la regola del telefonino e delle cose da mangiare. Non so se mi spiego. Se vuoi conoscere tanti altri aspetti dell'animazione, segui la playlist Come diventare un animatore turistico, iscriviti al canale, mi raccomando, metti un mi piace, e ci vediamo al prossimo video. Ciao, grande. Ciao.